In tutto il mondo. Disse che avrebbe smesso quel giorno, ma non andò così, non poteva andare così. Per gli amici era E.J., un cronista a 15 anni e lo batte Joe Magic, Magic Johnson, un campione assoluto, uno dei grandi della storia della pallacanestro, basket, come giustamente lo chiamano gli americani, ormai anche noi. Magic Johnson è un uomo, che dire, diciamo che è l'uomo delle triple doppie, non so quante ne ha fatte in carriera, sapete cosa vuol dire triple doppia? Quando in una stessa partita si fanno in doppia cifra punti segnati, assist e rimbalzi. Un gigante, 2 metri e 0,6 e giocava da play. Alla fine della carriera, perché smise nel 1991, ma solo per ricominciare, molte volte, pensate che l'oro olimpico lo vinse l'anno dopo. Ma perché dovette smettere? Dovette smettere perché si scoprì si ero positivo, non malato di AIDS, ma portatore del virus. E in quel mondo degli anni 90, una persona appestata dal male incomprensibile, ancora senza vaccino, era una persona che non poteva avvicinarsi agli altri. Ci vuole molto tempo perché amici e avversari capissero che senza Magic Johnson si ero positivo, non si poteva continuare a giocare davvero. E lui a intermittenza tornò a calcare il campo da palla a canestro. Lo fece nella sua America, nel NBA, continuando a ricoprire di gloria i suoi Lakers, di cui fu anche presidente, e lo fece in Europa con delle apparizioni mirate. Ancora oggi di lui, il suo nome, continuiamo a sentirle cheggiare per un fatto che mi piace ricordare. Ha fondato in quell'anno una fondazione che ogni 12 mesi assicura a 250.000 persone cure e diritto allo studio. Questo fanno i grandi uomini ed è qualcosa di davvero magico. Sono molto triste per quello che succede. Grazie a tutti.